questo bosco misto fogli di abeti e faggi quando sono andato via circa due mesi fa era spoglio salvo gli abeti che sono sempre veri sono tornato e lo trovo come si dice tutto fogliato questo è un miracolo della natura che si rinnova di anno in anno da migliaia e migliaia di anni immutabile e sempre nuovo di fronte a questi spettacoli cosa volete che rappresenti la miseria umana la politica le storie l'imbrogli le le grassazioni le finte verità le false verità le bugie da tutte le parti cosa rappresenta di tutti noi tra diciamo cent'anni non ce ne sarà più neppure uno o poco meno e questo spettacolo continuerà immutabile a rinnovarsi siamo veramente poca cosa ricordiamocelo arrivederci